Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia ma per fortuna i soccorsi si sono attivati velocemente. Martedì sera attorno alle 21 un uomo di 49 anni di stia è andato in arresto cardiaco mentre stava giocando una partita di calcetto alla palestra di Bibbiena con alcuni amici. I compagni hanno visto l'uomo accasciarsi a terra e hanno prontamente chiamato il 118 iniziando a praticargli il massaggio cardiaco su indicazioni dell'infermiere della centrale. Nel frattempo il 118 ha attivato tramite un sms allerta del progetto Arezzo Cuore tutti coloro che nella zona di Bibbiena hanno seguito il corso per l'uso del defibrillatore. A rispondere prima di tutti all'emergenza è stata un'ambulanza della Croce Rossa che è arrivata sul posto anticipando l'automedica. I volontari della Croce Rossa hanno defibrillato l'uomo per ben due volte e il suo cuore fortunatamente ha ripreso a battere. Una volta stabilizzato il 49enne è stato trasferito all'ospedale San Donato di Arezzo dove il team cardiologico è prontamente intervenuto per liberare le coronarie occluse che hanno causato l'arresto cardiaco. Adesso si trova ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.